A febbraio... Capo! È ora di andare a caccia! La pietra... Un cavernicolo? Un cavernicolo! Incontra il bronzo... Lascia in pace la mia tribù! Sei coraggioso, cavernicolo! È scemo. Da regista di Galline in fuga... Non voglio attirare l'attenzione! I primitivi, dall'8 febbraio al cinema... I primitivi, dall'8 febbraio al cinema... I primitivi, dall'8 febbraio al cinema... Grazie a tutti.